Benvenuti in questo ultimo video sull'uso di K2, versione 2.5 disponibile anche per Jumbla 1.7. In questo video vediamo come creare una singola categoria manualmente, come impostare i parametri, come poi creare un articolo e pubblicarlo in questa categoria. Vediamo anche come creare cambi aggiuntivi e come inserire elementi multimediali in un articolo. Innanzitutto andiamo su categorie, clicchiamo su nuovo, titolo diamogli K3, Categoria madre, mettiamo notizie, in modo che da associare questa categoria alla categoria madre. Eredita i parametri, quindi in modo che questi qua, vedete, non li andiamo più ad imbustare, perché li andiamo ad ereditare da una categoria madre, che è notizie. gruppo di cambi aggiuntivi associato, mettiamo link, poi vediamo come crearlo. Pubblicato sì, descrizione della categoria, mettiamo un'immagine, ok, facciamo salve e chiudi. Ora, andiamo sul sito di... Mettete su Google Simple Image Gallery, come ricerca, e andate su Joomla Works, andate in fondo, scaricate o il video per il Joomla 1.7 e Simple Image Gallery, Poi, li installate come si fa comunemente. Adesso andate in gestione plugin, e abilitate o il video e il simbolo Image Gallery. In o il video, lasciate pure tutto come sta, non cambia nulla. L'unica cosa invece di Image Gallery, che dovete impostare, la cartella, mettete come qui, images, come root. Fate chiudi. Ora andate in pannello di controllo di Joomla, gestione media, createvi una cartella all'interno di images. Io ho creato la cartella K2. All'interno di essa, insedi tutte le immagini che volete. Adesso andate in K2, articoli, creiamo un articolo nuovo, facciamo nuovo, si aprirà una schermata. Mettete il titolo, io ho chiamato Gallery, alias quello che volete. Categoria, io ho messo, l'ho pubblicato nella categoria K3. I tags si inseriscono, mettete le parole che volete, le parole chiave, ogni volta premete invio. In evidenza sì, pubblicato sì, mettete quello che volete. Ora, per usare la galleria, basta scrivere in un punto qualsiasi dove vogliamo mostrare la galleria, apri parentesi graffa, gallery, chiusa parentesi graffa, è il nome della cartella in cui abbiamo inserito le immagini. Siccome le immagini abbiamo inserite in una cartella che si chiama K2, che si trova sotto la cartella images, basta scrivere K2, apri parentesi graffa, slash, chiudete il tag, gallery, scrivete di nuovo gallery, chiusa parentesi graffa, è tutto. Per il momento. Poi, in un articolo, vabbè, possiamo mettere anche un'immagine, questa, poi, media, andate su incorporato. Per esempio, andiamo su YouTube, su questo video, mettiamo condividi e prendiamo il codice, lo facciamo copia e incolla, e lo mettiamo qui dentro, comparirà così il video automaticamente, altrimenti, usando il video, basta specificare il servizio, in questo caso YouTube, e qui c'è il codice del video, che è questo qua, vedete? Ora, a destra, vabbè, c'è lo stato di pubblicazione, l'autore, la data di pubblicazione, il metadag, eccetera. Opzione di visualizzazione dell'articolo, mettiamo ereditata dalla categoria, cioè si va a prendere i parametri impostati dalla categoria K3. Quindi, salvo e chiudi, andiamo a vedere cosa sono questi cambi aggiuntivi. Più, creiamo un gruppo cambi aggiuntivi, facciamo nuovo, chiamiamolo, per esempio, io ho chiamato link, vabbè, è una cosa quella che volete, potete chiamare anche extra field, extra cambi, cambi aggiuntivi, va di nuovo, io ho messo uno, l'ho chiamato link autore, poi ho messo pubblicato sì, ho fatto crea un nuovo gruppo, qua a nome del gruppo ho messo link, e lui mi ha creato, poi ho fatto selezione del tipo, ho messo collegamento, qui ho inserito, per esempio, guido e ubundo, e un link tonifree.it, apri in una nuova finestra, e poi ho salvato. Ho fatto una stessa cosa, ho creato un campo per inserire la data dell'articolo, nome, data, pubblicato sì, gruppo, ho messo, l'ho associato sempre al link, quello di prima, tipo, data, e ho chiuso. Lo possiamo riutilizzare nell'articolo, andiamo su articolo, gallery, andiamo su cambi aggiuntivi, vedete, link autore, testo, quello che abbiamo scelto noi, e data, quello che abbiamo scelto noi. Chiudiamo, andiamo nel menu, blog, vedete, k3, l'immagine della categoria, il titolo gallery, e la galleria delle immagini. leggi tutto, dovrebbe comparire anche il video. Eccolo. E' tutto per questi tutorial su K2, grazie, e alla prossima.